Monumenti, arte, musica, storia ed enogastronomia oggi a Palazzo Paolo V, i sindaci di Benevento, Capo e Salerno hanno sottoscritto la costituzione di un'associazione temporanea di scopo, Principati e Terre dei Longobardi del Sud, con lo scopo di favorire il recupero della comune identità longobarda. Un momento di razionalizzazione culturale che serve a fare massa critica per far capire il valore eccezionale di questi nostri detaggi. Se lo facciamo mettendo in rete Benevento, Capo e Salerno, che sono delle polarità singolari ed importanti del nostro background storico e culturale, credo che facciamo un'azione intelligente e un'azione utile ai territori. È l'unico modo per promuovere l'intero territorio e lavorare in rete. Capo ci sta, è una fortuna poter collaborare con due grandi comuni quali sono Salerno e Benevento e i Longobardi del nostro territorio hanno caratterizzato tutto il territorio. Primo evento con le passeggiate tra le corti e le chiese dei principi Longobardi al centro della Quattro Giorni, in programma da venerdì 25 al 28 giugno, che si snoderà tra Benevento, Capo e Salerno. La volontà politico-istituzionale di promuovere un itinerario e un'alleanza deve poi incrociare chi lavora in questo settore. Quindi abbiamo invitato in particolare le associazioni di categoria, Confindustria e CNA che si occupano di turismo, perché con loro sarà poi possibile costruire un pacchetto turistico.